Bollette, abbonamenti, fatture da pagare e conti correnti in rosso affissi sul cancellio d'ingresso della casa di riposo di Teramo e dell'azienda PAP che gestisce l'appalto pubblico delle mense. E' stata questa l'iniziativa organizzata dalla Filcams CGL di Teramo per riaccendere i riflettori sulla oramai cronica situazione delle 25 lavoratrici della mensa della De Benedictis, ad oggi con 6 mensilità arretrate. Abbiamo deciso di affiggere davanti ai cancelli della casa di riposo quella che è la realtà dei fatti, quello che noi ascoltiamo tutti i giorni da parte delle lavoratrici e dei lavoratori della casa di riposo e delle mense dei comuni in cui è affidato il servizio alla PAP, ovvero situazioni di pagamenti bollette che non riescono a effettuare, conti in rosso, pagamenti degli studi dei figli, delle tasse degli studi dei figli che non riescono ad effettuare. Quindi una situazione tragica che noi denunciamo ormai da mesi, per la casa di riposo siamo a 6 mensilità di ritardo, nelle mense dei comuni di Alba Triatica, Notaresco, Castelli e Morrodoro siamo a 4 mensilità in ritardo. Diteci voi se in una situazione come quella di oggi in cui i costi della vita continuano ad aumentare, come è possibile vivere campando famiglie con 6 mensilità indietro. Una condizione drammatica che riguarda diversi comuni ed altrettante sedi, con recente decreto ingiuntivo avviato da sindacato e lavoratori, che ha colto la certificazione dal Tribunale di validità del credito, passaggio obbligato per continuare a procedere. Ad oggi, appunto, oltre al Tribunale di Teramo, che si è espresso in maniera positiva nei confronti dei decreti ingiuntivi che abbiamo fatto, non ci sono risposte dagli enti interessati. Sappiamo che i comuni pagano regolarmente la PAP, è vero che qui alla casa di riposo c'è un debito nei confronti della PAP, ma questo non giustifica il mancato pagamento degli stipendi. Noi l'abbiamo detto, siamo disponibili a sederci a un tavolo per risolvere il problema di debito che la ASP ha, ma questo non vuol dire che i lavoratori non debbano essere pagati, perché un'azienda ha dei crediti nei confronti della cassa di riposo.